Tutta la materia in genere. Cerchio e seno attraverso NT a cura di VB Dario Ragusa. Voi quando fate questi fenomeni non contrastate le leggi dell'universo, è vero? Alexander, interessante, giusto. Sappiamo manipolare le energie. Perché quegli apporti che vi vengono donati, tutta la materia in genere, prima di essere materia consolidata e concreta, è energia. E l'energia è vibrazione. Questo vi è stato già detto, però è bene ribadire certi concetti, in quanto tutto poi diventa più chiaro. Poi negli apporti, quando noi dobbiamo trattare materia organica, dobbiamo usare certi accorgimenti. Ricordate, Rolanda e altri, la piccola tartaruga? Doveva essere una colomba, inizialmente, e tutti sentirono sbattere le ali. Ma se avessimo continuato nella materializzazione, essendo la colomba un animale, un essere, perdonate, a sangue caldo, non sarebbe sopravvissuta al processo di rimaterializzazione. Capite? Vi è chiaro il concetto di come operiamo? Hai compreso bene? Domanda, sì, grazie. Alexander, è importante, altrimenti per voi resta tutto un mistero, qualcosa di incomprensibile, vero? Domanda, certo. Scusa, Alexander. Alexander, ti ascolto, certo. Domanda, questo elemento, questo meteorite che tu mi hai, Alexander, è un piccolo frammento di meteorite. Domanda, è presente sulla Terra? Alexander, dopo la caduta, sì. Domanda, prima, prima. Alexander, no, certo, viene dallo spazio. Domanda, ma gli elementi di cui è composto erano già presenti sulla Terra? Alexander, certamente. Nei meteoriti si riscontrano molti elementi che sono già sulla Terra. Domanda, questo volevo sapere. Grazie.